Ok ragazzi, siete Marco Travaglio e per promuovere il vostro ultimo libro accettate un'ospitata da Ivan Grieco alla quale parteciperà un giovane ragazzo del quale non avete mai sentito parlare che fa di nome Parabellum, alias Mirko Campochiari Tanto se c'è da parlare di guerra in Ucraina, che cosa potrà mai andare storto? Vi posso solo dire che Travaglio per la prima volta si è trovato di fronte qualcuno che contestava le sue affermazioni dati alla mano e oggettivamente non gli è andata proprio benissimo Infatti, messo alle strette, dopo qualche decina di minuti ha cercato anche di darsi alla fuga al galoppo di Gish Cioè in pratica coprendosi la ritirata sparando tutti i luoghi comuni della propaganda russa che l'essere umano abbia mai sentito Ma Mirko è stato implacabile, li ha smontati uno a uno e ha fatto notare a Marco Travaglio che per l'appunto stava sfruttando uno stratagemma retorico Ora, chi mi conosce sa che non lo faccio spesso ma vi invito davvero a guardare il confronto fra Mirko Parabellum e Marco Travaglio perché da questo confronto si possono imparare tante cose sulla comunicazione e poi se vi siete appassionati alle questioni ucraine, israeliane, palestinesi soltanto nelle ultime settimane magari potete imparare e raffinare anche qualche concetto Se viceversa, come me, state seguendo queste questioni da mesi o da anni per quanto riguarda l'Ucraina allora saprete già sicuramente tutto ma l'intervista merita comunque per altri motivi La mia impressione è che Marco Travaglio e conseguentemente anche il Fatto Quotidiano non abbiano in realtà delle fonti particolarmente attendibili e particolarmente approfondite Sulla base delle risposte che Marco Travaglio ha dato io mi sono convinto che quando lui deve scrivere un editoriale lo fa come lo farebbe ognuno di noi cioè scartabellando fra le riviste online e magari anche con abbonamenti cartacei riservati ma comunque senza consultare esperti, senza analizzare fonti diverse e più tecniche Insomma, Marco Travaglio ha un approccio tipicamente giornalistico mentre invece altri, Mirko Parabellum in primis, hanno un approccio da analista, da scienziato che va ben oltre la lettura delle veline, della Ria Novosti, della Tasso o anche dell'Associated Press Mirko, minimo minimo, si studia tutti i rapporti dei principali think tank militari del pianeta l'ISV, piuttosto che Oryx e molti, molti altri think tank che sono composti non da giornalisti, propagandisti o autori che sembrano usciti da un vecchio film di fantascienza ma bensì think tank che sono frequentati da scienziati, storici e militari più o meno in pensione persone che non hanno normalmente tempo per stare ad ascoltare un Lavrov o un Salvini e che preferiscono capire qual è la situazione studiandosi le foto satellitari Insomma, Marco Travaglio non ha un approccio scientifico e naturalmente un approccio scientifico non l'ha neppure il fatto quotidiano e questo può avvenire per un insieme di motivi In primo luogo c'è una ragione economica Contrariamente a quello che si pensa, il fatto quotidiano e la sua società editoriale non sono esattamente una grande società Sì, è una società quotata in borsa ma è altrettanto vero che il suo valore è andato diminuendo nel tempo e rispetto all'esaltazione del 2019 quando il fatto quotidiano è arrivato a quotarsi in borsa ad oggi il valore di ogni singola azione è quasi dimezzato Assumere un esperto, un team di esperti sarebbe fantastico ma ti farebbe anche aumentare le spese in modo non indifferente Innanzitutto dovresti pagare il team e poi naturalmente dovresti mettere questo team in condizioni di operare acquisendo per esempio foto satellitari o altro materiale Il tutto in un mondo dove c'è uno spaventoso appiattimento verso il basso Ora, non voglio parlare male del fatto quotidiano né di altri giornali ma vediamo tutti come la qualità degli articoli complessivamente negli ultimi decenni si è andata peggiorando e sappiamo tutti perfettamente come si è andato peggiorando anche il rapporto di lavoro con i giornalisti che vengono pagati sempre meno ci sono sempre più freelance cioè dei ragazzi che di fatto vengono pagati a cottimo o quasi e quando tu abbassi la qualità del lavoro per risparmiare sulle spese è chiaro che ottieni un prodotto che è di qualità inferiore è matematico insomma poi c'è un ulteriore problema gravissimo di marketing mettiamo infatti il caso che Marco Travaglio fulminato sulla via di Damasco o meglio ancora all'interno della miniera di Ivan Greco decida di stipulare un contratto di collaborazione a favore di Mirko Campochiari e del suo think tank Parabellum secondo voi sarebbe una cosa positiva per il Fatto Quotidiano e soprattutto per la società editrice? la risposta è nè anzi probabilmente no perché la triste realtà è che per il Fatto Quotidiano o meglio per la casa editrice alle spalle del Fatto Quotidiano è infinitamente meglio un professore Alessandro Orsini qualsiasi rispetto a uno specifico Mirko Campochiari e a questo punto naturalmente ci sarà ben più di un iscritto che dirà qualcosa tipo ma avvocato ma sei impazzito stai scherzando? Mirko è competente il professore Alessandro Orsini dice cose e vede gente non sono neanche lontanamente paragonabili e infatti è proprio questo il problema Mirko Campochiari dice quello che succede fa un'analisi di tipo scientifico mentre invece il professore Alessandro Orsini non me ne voglia intrattiene un pubblico ma non un pubblico qualsiasi uno specifico genere di pubblico che poi è quello che si abbeverà al Fatto Quotidiano acquista i libri della società editrice del Fatto Quotidiano va a vedere gli spettacoli tenuti dai collaboratori del Fatto Quotidiano in pratica verosimilmente Mirko ti farebbe perdere copie vendute e non te le farebbe acquistare proprio perché il Fatto Quotidiano ha una sua nicchia di mercato che sostanzialmente coincide con i manettari e complottisti i pro-Putiniani Novax i famosissimi pro-Putiniani Novax persone che più che informarsi realmente vogliono semplicemente avere la conferma circa il fatto che il mondo in cui vivono è brutto, marcio e da radere al suolo possibilmente con il supporto dell'uomo forte di turno e naturalmente si tratta di un pubblico che non disdegna le leggende metropolitane se non le vere e proprie menzogne della propaganda russa si tratta di persone convintissime che quando entri nella Nato diventi schiavo, servo, azzerbinato proprio agli Stati Uniti d'America si tratta di gente convinta che in Ucraina ci si trova di tutto dai bio-laboratori in stile Umbrella con le armi biologiche alla Resident Evil alle testate nucleari che probabilmente sono rimaste lì perché qualche cattivo di 007 è andato in pensione il pubblico di riferimento del Fatto Quotidiano e purtroppo per lui anche di Marco Travaglio ormai è questo qui ed è su questo target che il Fatto Quotidiano deve focalizzarsi e ragazzi sto dicendo una cosa forte sto dicendo che in realtà il Fatto Quotidiano non è affatto libero di essere il giornale che vorrebbe essere ma anche lui risponde ad un'autorità più alta in questo caso risponde a una certa fascia di consumatori che sono per l'appunto i Proputin, Novax, eccetera, eccetera insomma, in questo caso la professionalità è dannosa e sfido io che Marco Travaglio preferisce tenersi strette un Elena Basile oppure un Alessandro Orsini o un Nicolai Lilin se ancora è lì rispetto a un Mirko Campochiari o a un avvocato Catania qualsiasi anche perché Mirko Campochiari è un professionista il professor Alessandro Orsini è un personaggio e diciamoci le cose come stanno il personaggio è infinitamente più spendibile e remunerativo rispetto al professionista infatti, non so se ve ne siete resi conto ma negli ultimi anni il tempo medio che una persona nella media dedica a una notizia è di circa 60 secondi 90 se è proprio un nerd di quelli focalizzati e in quei 90 secondi tu devi fare in modo che la notizia ti colpisca nel caso specifico secondo voi ha più possibilità di fare colpo un professor Orsini che spara una bippata del tipo anche i bambini possono essere felici in dittatura oppure un Mirko Parabellum che analizza la posizione dei carri armati poco prima dell'invasione dell'Ucraina attira di più l'attenzione un Elena Basile che insulta Liliana Segre oppure l'avvocato Catania che analizza i resti di un'ambulanza per spiegarti per quale motivo non è stata distrutta durante un bombardamento aereo e naturalmente questo principio non vale solo per gli articoli inseriti nel Fatto Quotidiano o in qualunque altro giornale no vale anche per le comparsate perché la SAFE direttamente o indirettamente ha delle notevoli collaborazioni con le principali televisioni italiane per qualche strana ragione le emittenti televisive non scelgono direttamente gli ospiti ma si avvalgono di alcune agenzie che portano gli ospiti semplicemente tu decidi che ci deve essere un certo set di ospiti per parlare di un certo argomento e dai l'incarico alla SAFE o a qualche società controllata da questa e dato che i complottisti e i propagandisti russi fanno Auditel tu chiedi specificatamente che venga il professor Alessandro Orsini oppure la sua controparte femminile Elena Basile oppure ancora Alessandro Di Battista è così che funziona ed è anche così che Marco Travaglio e Gomez ottengono un buon numero di ospitate che poi si traducono naturalmente in denaro sonante ora il professor Riccardo Puglisi ha fatto una ricerca in merito e dice che per ogni singola trasmissione televisiva il casting e la ricompensa per le comparsate raggiunge circa i 60.000 euro a puntata di una trasmissione quindi anche l'agenzia o la società editoriale che svolge funzioni di agenzia ha tutto l'interesse a spingere i propri collaboratori e i suoi collaboratori sono ovviamente novax e complottisti perché questo piace alla gente non solo le comparsate in tv trainano anche altre iniziative da una parte in piccola misura possono trainare le vendite del giornale ma dall'altra possono trainarti anche le vendite di spettacoli teatrali perché alla fine della fiera questo sono ne parliamo fra un attimo e naturalmente le vendite dei libri perché la safe direttamente o per il tramite di una sua controllata vende anche libri tramite la paper first che naturalmente pubblica i libri di travaglio del professor Orsini della dottoressa Basile e credo anche di Di Battista e poi naturalmente ci sono anche gli spettacoli teatrali i monologhi la stand up comedy come la chiamerei io che però in realtà non è tale sono più monologhi puri e sempre safe naturalmente guadagna anche da questo tipo di attività infatti ha una società controllata che si chiama Love TV che si occupa fra le altre cose della creazione di eventi e pare che per assistere a uno spettacolo a un monologo di questo tipo la gente sia disposta anche a pagare fra i 20 e 30 euro a botta e infine ci sono i documentari di Love TV documentari che non sono particolarmente noti ma esistono e in teoria presto o tardi potrebbero anche iniziare a rendere qualcosa al fatto quotidiano detto fra parentesi Love TV è una società controllata da safe che è stata valorizzata mica male secondo il professor Puglisi che si occupa di economia anche se in realtà francamente io dubito che possa essere renditizia perché diciamoci le cose come stanno non vedo tutto questo interesse per documentari o monologhi registrati a pagamento buona parte dei contenuti ormai si fruiscono online gratuitamente su Youtube su Twitch su Facebook e su altre piattaforme per cui non penso sia particolarmente renditizio ma il punto focale della questione consiste nel fatto che fare propaganda filorussa rende anche senza essere a libro paga dei russi e quando qualcuno dice il mio giornale è indipendente tecnicamente sarà anche forse vero ma sostanzialmente non lo è perché qualunque giornale dipende dagli sponsor da una parte e da quanto contribuiscono i lettori sotto il profilo monetario dall'altra è chiaro che se tu dipendi integralmente dai tuoi lettori dovrai dare loro quello che vogliono e quando vogliono vendute certe teorie tu dovrai dare loro quelle teorie diversamente finirai in rovina e disoccupato il problema serio serissimo ce l'hai quando il tuo prodotto sostanzialmente diventa il putinismo perché questo è un prodotto che nuoce gravemente alla democrazia e no non esiste una soluzione facile l'unica soluzione è quella di sensibilizzare le persone e cercare di fare in modo che possano sviluppare un senso critico affinché non acquistino più prodotti di questo tipo ma soprattutto si convincano del fatto che una dittatura non è mai un buon investimento e non è mai auspicabile e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di diventare un patreon se volete o potete in alternativa perlomeno iscrivetevi al canale che è gratis attivate la campanella che tanto suona poco e male condividete il link al video con gli amici che sono interessati alla materia e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso se non farete tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente improbabile potreste ritrovarvi con la mensa aziendale gestita da safe e con il professore Alessandro Orsini che decide quale dieta dovrete seguire io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto